Era una sperimentazione e così è stata trattata. L'istituzione di una pista ciclabile insieme a una pista pedonale in Viale Dante Lighieri si prefingeva lo scopo di favorire la mobilità dolce, così come era stato richiesto da non pochi residenti. In realtà i primi giorni di esecuzione hanno richiesto alcune modifiche anche sostanziali come l'eliminazione della pista ciclabile, il che ha motivato il Comune a dei ripensamenti, ripensamenti che la Lega ha paragonato come un passo indietro. Queste le precisazioni dell'assessora alla viabilità Barbara Brunori. Nessun passo indietro, anzi è un passo in avanti, un passo in avanti semplicemente perché non si rivede e non si ritorna alla situazione originale ma proprio la scorsa settimana, fine settimana, sono stata contattata alla luce della sperimentazione che è in corso da alcuni residenti ed esercenti e soprattutto esercenti che lamentavano che a distanza di così pochi giorni comunque avevano avuto dei riflessi negativi all'interno delle loro attività, motivo per cui ci siamo adoperati insieme con un rappresentante di quelli che erano i sottoscrittori di quella vecchia perizia e anche appunto dei commercianti presenti di ragionare insieme anche all'ufficio tecnico su quelle che potevano essere delle seconde opportunità. In questo momento stiamo valutando, ripeto valutando perché ancora tecnicamente poi i tecnici si devono mettere seduti e quindi stiamo valutando la possibilità di mettere in sicurezza i pedoni perché è l'obiettivo originale, quanto esposto dal prefetto ricordiamo un anno fa che ci chiese proprio espressamente di mettere in sicurezza i pedoni all'interno di quella arteria. Bene, allora con questo secondo, con il piano B che stiamo pensando, questo accadrà perché di fatto verrà realizzato in attesa di un eventuale marciapiede un percorso pedonale proprio di fianco alle abitazioni, quindi sul perimetro delle abitazioni che sarà, come dire, circoscritto da paletti. Questo permetterà ai pedoni di transitare in sicurezza e di fianco metterci naturalmente ridurre sicuramente i parcheggi perché da 39 non arriveranno a zero ma così facendo metteremo dei parcheggi in linea, probabilmente se ne riusciranno a stare 15 ma è forse quel polmone che tiene tutto in ordine perché rientrerà all'interno della banchina, non ostacolerà più la carreggiata che sarà libera da qualsiasi tipo di ingombro e in questo caso i ciclisti, ahimè, la pista ciclabile purtroppo essendo a riga continua non può avere un parcheggio di fianco per cui per regole del codice della strada non può essere realizzata e quindi i ciclisti saranno sulla carreggiata insieme alle auto come succede in tante vie della città. Ripeto, questa è una sperimentazione, non si torna mai indietro, si va sempre avanti proprio perché ci mettiamo sempre all'ascolto di quello che succede in un contesto.